Sì, grazie Presidente, anticipo subito che il nostro voto, il voto del gruppo Capitolino che rappresento a questa mozione sarà favorevole, però Presidente mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni, lei sa, tutti i colleghi sanno che io sono una persona molto politically correct e se c'è da fare un plauso all'opposizione lo fa, se c'è da fare una critica alla maggioranza lo fa, quindi insomma sono una porzione, mi ritengo imparziale, però mi corre l'obbligo di ricordare alcune cose alla consigliera Celli e anche ai consigli del Partito Democratico che hanno firmato una mozione simile, perché altrimenti qui si sta un pochino stravolgendo la realtà. Cari colleghi firmatari di questi atti, la ferrovia Roma-Giardinetti ad agosto del 2015 ha la tratta esterna da Centocella a Giardinetti, l'avete chiusa voi? A me fa piacere che adesso scoprite che questa tratta è strategica, che collega gli ospedali, che collega tanti altri punti interessanti della periferia sud-est della città di Roma, mi chiedo però come mai queste domande non ve le siate fatte quando ad agosto del 2015 sotto l'amministrazione Marino questa tratta letteralmente dall'oggi al domani, perché all'epoca seguivo i temi, seguivo il tema della mobilità in Campidoglio, questa tratta è stata chiusa letteralmente dall'oggi al domani, dalla Regione Lazio che era guidata e continua ad essere dal Partito Democratico e dalla loro amministrazione e dall'allora vertici e direzione ferroviaria di Atac. Quello che la consigliera Celli dimentica è che nel frattempo, purtroppo, anche quando noi ci siamo insediati circa un anno dopo, sono accaduti due fattori molto importanti. Da un lato il personale di movimento della Roma-Giardinetti ha ricollocato o è andato in pensione o è andato sulle altre metropolitane e dall'altro la Regione Lazio non si è mai detta disponibile a finanziare, a corrispondere, perché il contratto di servizio è tra Regione Lazio ed Atac, a corrispondere la somma, le risorse economiche per la tratta più esterna dicendo che andava in parallelo con la metropolitana C. Quindi ripeto, a me fa piacere che oggi i consiglieri fanno tutte queste scoperte interessanti e che presentano una mozione ogni due settimane in aula su questo argomento, capisco anche che siamo in campagna elettorale, però, cari colleghi, bisogna essere oggettivi e soprattutto realisti ed assumersi le proprie responsabilità, ammettendo anche i propri errori, perché penso che non ci sia nulla di male, ma fare come se non fosse successo nulla o addirittura dalla narrazione che ho sentito poco fa, sembra che questa ferrovia l'ha chiusa il Movimento 5 Stelle, onestamente e francamente, caro Presidente, io non ci sto, non ci sto proprio, anche perché sul tema, prima si parlava di commissioni e cose varie, commissioni ne abbiamo fatte un elenco infinito, ne abbiamo fatte tantissime, già subito nel 2016, appena insediati, portando avanti in parallelo due aspetti molto importanti, dall'altro quello della riapertura, che però abbiamo verificato più volte non esserci le condizioni, ma siamo ben felici di riprovarci e di riparlare ancora una volta con la Regione, anche in forza di questa mozione, perché come ho detto all'inizio del mio intervento, io sono una persona molto obiettiva, che guarda ai temi, non guarda le bandierine, non guarda ai proclami, però caro Presidente, abbiamo fatto un lavoro costante in commissione su questo tema, il sottoscritto ha fatto molto spesso delle note, ha avuto una corrispondenza che si è tramutata anche in alcuni aspetti concreti con Atac, sono stati votati tantissimi ordini del giorno, anche a firma mia, comunque della maggioranza, su questo importante tema, quindi che l'opposizione lo scopra a 11 mesi delle elezioni, mi fa molto piacere, saremo in tanti a fare questa battaglia, rubo gli ultimi 30 secondi Presidente, mi scusi se sforo, ma veramente 30 secondi poi per prendermi qualche merito, ripeto io sono obiettivo e non dico che la nostra amministrazione ha fatto solo successi, ha raggiunto solamente successi in questi 4 anni, sicuramente abbiamo fatto degli errori, ma sulla Roma Giardinetti questa amministrazione e i nostri tecnici, ricordiamolo, di Roma Servizio della Mobilità e le associazioni che ci hanno supportato, abbiamo raggiunto il risultato straordinario, perché nel 2016 questa infrastruttura destinata alla chiusura totale, ripeto, alla chiusura totale, noi abbiamo fatto un progetto ambizioso di prolungamento, fino alla stazione Termina da un lato e fino all'università di Tor Vergata dall'altro, io tra l'altro da studente di Tor Vergata so quanto questa università manchi, quanto manchi a questa università una connessione su ferro, quindi abbiamo portato questo progetto molto ambizioso, che poi ovviamente è stato finanziato dal MIT e che non smetteremo mai di ringraziare, però che adesso mi si vada a raccontare i benefici di questa infrastruttura quando qualcuno se ne è dimenticato per 4 anni e 5 anni fa l'abbia chiusa dall'oggio al domani, caro Presidente francamente lo trovo ridicolo. Grazie. Grazie a lei.